Linea Maginot I militari entrano a piedi Questa è l'ingresso delle munizioni L'ingresso dei militari? Cioè non c'è uno solo di ingresso? Sì, sono tanti, o è lunga E non si entra da una parte sola Quanto è lunga? 3 km E noi dobbiamo fare tutto Grazie al coraggio dei suoi soldati e della sua potente artiglieria L'opera poté tuttavia impedire al nemico De sfondare il fronte assaziano Allorché la Francia era già stata in gran parte Occupata dai tedeschi Nonostante i bombardamenti aerei Ed artiglieri, tra i quali credo che Un office di 420 mm L'opera rimane completamente in calma Dopo l'armi stesso del 25 giugno La sua guardiazione resistente per altri 5 giorni E si è reso solo per ordine dell'atto Quando non c'è Si, da Si, da Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedi che cannone? Grazie a tutti. Grazie a tutti.